Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo episodio di Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist Link Evolution Saga di Yu-Gi-Oh! Arc-V Nello scorso episodio ci sono stati altri due duelli Farne tre sembra davvero impossibile Uniti per resistere dove abbiamo rincontrato una vecchia conoscenza di Yu-Gi-Oh! E l'ultima carta, anche Aster non è che fosse insomma una conoscenza tanto nuova Se ho fatto bene i conti ne mancano otto Comunque, cominciamo con il primo duello di oggi Nella dimensione fusione la forza Obelisk continua il suo assalto alla scuola di duelli Yu-Show Non perdiamo altro tempo Uno dei soldati del professore ha appena abbattuto 5 dei nostri combattenti e l'ha tramutato in carte Bellissimo sempre tramutare la gente in carte Ok, d'accordo Sia chiaro però che vado da solo Non se ne parla, non posso permetterlo Lei rimanga qua e riposi quella gamba Possiamo pensarci noi È strano che con tutta la tecnologia che esiste nel mondo di Yu-Gi-Oh! Quest'uomo non possa curarsi una gamba Lo so che potete, ma non sono sicuro che combattere sia la cosa migliore Potrebbe esserci un'altra soluzione Parlerò con l'Io Akaba e risolveremo la faccenda Oh no, mi spiace Per parlare con il professore prima lo devi incontrare E puoi incontrarlo solo tramite me Dennis Buongiorno Zuzu, non ci si vede da un pezzo Ho fatto proprio una bella messa in scena, non è vero? Ci sono cascati tutti D'altronde, da un archista di talento come me non ci si poteva aspettare di meno Dici sul serio? Dennis McField Lo conosce anche lei? Ne è passato di tempo Maestro Maestro Allora maestro, mi dica È pronto a mettere la sua esperienza contro la mia bravura? Chiudi il becco, testa rossa Che cosa ci fai qui? Beh, Kite Tenjo Chi altri? Lui può fare tutto E Kite Tenjo Allora, eh Sono approdato in questa dimensione perché devo liberare un'amica Il professore sta tenendo in ostaggio Lulu E tu mi dirai esattamente dov'è rinchiusa Se ti rifiuti Ti farò vuotare il sacco battendoti a duello Vuoi duellare contro di me? Dovresti fare il comico, sai? Quanto sei spiritoso Vediamo se hai ancora voglia di scherzare All'accademia c'è chi ha preso le distanze dal professore Persino il vostro capo, Aster Felix Si è schierato con noi Dici sul serio? Sì Dopo aver perso in combattimento contro Yuya Aster ha voltato le spalle all'accademia dei duelli Yuya E' spiegabile che Yuya con i suoi duelli di disintrattenimento Abbia conquistato Aster E' patetico Ne va bene, basta con le chiacchiere Diamanis al duello In fondo, darti una lezione davanti al tuo insegnante sarà un vero spasso Comincia lo spettacolo Disintrattenimento Ho sbagliato quella parola 5 volte almeno Disintrattenimento E' tremendo pronunciarlo Allora, vediamo un po' Mmm Fugno contro forbici Lasciamo tutto al caso Primo A Va bene, va bene, va bene Sono pronto comunque Sono pronto Abbiamo un po' di luce in questo deck O sbaglio? Tutti luce Mamma mia, Kite Che roba sei? Abbiamo alza rango magico Ascensione Cypher Perché non è male Ma Wow Neo Cypher Drago Occhi Galattici E Cypher Drago E Cypher Drago Occhi Galattici Mamma mia Che figata Sti due tipi Eh, dovrei giocare Occhi Galattici E poi Neo Occhi Galattici Eh, solo in quella maniera Potrebbe andare bene Dunque Metto in posizione di difesa Coperto l'onesto E termino il turno Sì Ah, lui la carità ha giocato Artista Magus Ah, i Magus C'ha lui Artista Magus Ah, struttura Ingranaggio antico Oh, cavoli Ah Non ho visto Il carterra Sinceramente Vabbè Si prende un po' Li danno da Da difesa Ok Non è nulla di che Insomma Oddio Starebbe da controllare Allora Gioco alza rango Magico Coperta Ho spadaccino Della luce Rivelatrice E a pensarci Era meglio Se non giocavo nulla Allora Vorrei fare una giocata Ma non è facile Per niente Come la faccio? Allora Evoco Cypher Cavaliere Specchio Ed evoco anche Cypher Hala tramite Evocazione speciale In attacco È uguale Sposto In attacco L'onesto Voglio vedere Che combina Perché Devo capire Se posso Giocarmela bene Allora Fammi capire bene Come farla Perché potrebbe essere Buona Ok Perfetto Vorrei provare ad attivare L'effetto di Cypher Se lui Se lui mi distrugge Cypher È fatta Ma però se mi distrugge Anche questa no No Accidenti Solo Cypher Mi devi distruggere No Che cavolo C'ho tutta quanta una cosa In mente Da fare È perché Non c'ho le carte giuste In mano È vabbè Quattro Una era troppo È Sì 4500 Wow Ma perché quella Ah può attaccare Tante volte Quante le carte Che Eh Beh È Beh Comunque Una cosa del genere Non è normale Non può esistere Una situazione Di questo tipo Questo Se 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 ribalta La situazione Io spengo E disinstallo Il gioco Stai molto attento Stai molto attento Amico mio Perché Bene Stai molto attento Distruggiamo questo Oh Dimmi che ce l'ho fatta Io ora vi spiego Una cosina Magari Chi non gioca Questo gioco Non lo sa Io non so neanche Se questo incontro C'è nell'anime E se c'è E l'avete visto Oh Può essere bello Può essere brutto Ok Nel gioco Non è normale Mcfield Ha un deck Che non è Normale 16 incontri Tutte E 16 le volte Tranne questa Che era La 17esima Mi ha evocato La fusione Dell'ingranaggio antico Che ci vogliono 4 ingranaggi antichi Per evocarla Che a 4500 di attacco Può attaccare Tutti i mostri Dell'avversario E fa danno perforante E in 15 duelli Ha evocato L'artista Magus Mago del trapezio 15 duelli Il mago del trapezio Tutti i 16 duelli La macchina infernale Non è normale Non è normale Una situazione Di questo tipo Non ce la facevo più Io sto Sto letteralmente Da due ore A fare questo duello Da due ore Caricherò ovviamente Il Quando perdo La prima volta La seconda Ma dopo Taglio direttamente Qui perché Non è Non è plausibile Comunque sia Andiamo avanti Io sinceramente Boh Cioè se il computer Imbroglia Non lo so Non posso crederci Esatto Neanche ci riesco a credere Finalmente mi sono liberato Di te Ho fatto tutto quello Che mi era possibile Ho fatto del mio meglio E nonostante questo Non sono riuscito a vincere Dopo 15 volte Vorrei vedere Dennis Non essere maleducato Prendilo a calci sui denti La prima regola Di un bravo intrattenitore È ringraziare il pubblico Soprattutto quando ti applaude Applaude perché è finito Lo scopo di un vero duellante Di intrattenimento Non è vincere il duello È conquistare il pubblico E farlo sorridere Schierati con noi Dennis Sì e dammi il tuo deck Così almeno vinciamo sicuro Insieme ricostruiremo L'accademia dei duelli Diffonderemo tra la gente Il sorriso Invece della paura Come dei veri duellanti Dell'intrattenimento Tutto il male che ho fatto Tutti gli amici che ho tradito Quello non potrà mai essere cambiato Dennis Stai indietro Ascolta Kite Io so dove si trova Lulu È anche una ragazza Che risomiglia molto Rin Rin Ma è la ragazza Che sta cercando Yugo Ci sono due grandi torri All'accademia dei duelli Non puoi sbagliare Rin è nella torre orientale Lulu in quella occidentale E dovremmo fare un duello Per entrambe Se il professore sapesse Che ve l'ho detto Mi farebbe camminare Su una fune senza rete Ma magari Che fa Dennis? Si muore? Ah va intrappolato Ah perché ha perso Cioè quindi Si viene automaticamente Intrappolati nelle carte? Non ha senso Il parassita Il parassita eh Dopo aver ricevuto le informazioni Da Dennis I lanceri Si separarono Per salvare Lulu e Rin Quella è la torre Dove tengo Di nostaggio Lulu Io entro Fermo Yugo Come ci sei arrivato fin qui? Come al solito Il braccialetto di Zuzo È ricominciato a illuminarsi E così Eccomi è arrivato Lasciamo perdere Sono contento di vederti Ma che razza di posto è questo? Siamo all'accademia dei duelli Una volta forse Inoltre sappiamo Dove si trova la tua amica Rin Allora devi vedermelo subito Sbrigati Devono averla rinchiusa Da qualche parte Nella torre orientale Accidenti Ma perché non me l'hai detto prima? Perché l'abbiamo saputo adesso Ignorante Ciascuno ha la propria missione Quindi Che dici di andare a portare A termine la nostra? Sì Mettiamoci al lavoro È ora di incontrare Lio E Yugo intanto Raggiunse la torre orientale Per liberare Rin 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 Sei proprio tu Yugo? Sono felice che tu stia bene Deve essere stato terribile Essere rinchiusa qui Voglio dire Non tanto terribile Quanto non poter stare insieme Non che ci sia mancato E tu abbia desiderato Di poter stare qui con me Da italiano Qui si è perso Ah Tu pensi troppo Certo che desideravo Che tu fossi qui sciocco Così potevo fare questo Perché? Va bene Non capisco Ho il cervello fuso Per fortuna qualcosa Ha ottenuto la mia caduta Ah La mia dual runner Poverina Sono caduto su di lei Dimentica Quell'ammasso di ferraglia Hai problemi ben più grossi Ammasso di ferraglia? Cavolo Rin Rin Non posso credere Che tu abbia definito così La nostra dual runner Sai cosa è divertente Invece distruggerti? Ora salderemo i conti Alla vecchia maniera Duelliamo! Ma quindi sono Ma perché sono Io Rin Tutto ciò non ha senso Ma perché stiamo facendo? Cosa sta succedendo? Ragazzi Tutto ciò non ha senso Comunque È molto strano Io non Non lo so Allora Attivo Uno per uno Mandando Dalla mia mano Al cimitero Una carta Posso scegliere un mostro Di livello 1 Dal mio deck E scelgo di evocare Vento strega La metto in difesa Per sicurezza E evoco anche Vento strega Campanella di vetro È vento strega Campanella di ghiaccio Nella mia mano Ok Ma se attacchiamo invece Che dite? Buono Perfetto allora Volevo evocare Tramite sincro Ma ho due tuneri In campo Non va bene No Una carità graziosa Cattivo subito Una carità devole Graziosità Eh che cacchio Sì Posiziono Vento perso Ed evoco Un'altra Campanella di ghiaccio Sì Ok E attivo l'effetto Allora Evoco Vento a strega Campanella dell'inverno Uno E due Buono Poi In attacco ovviamente La mettiamo qui Posso anche attivare Il suo effetto Scelgo un mostro Nel mio cimitero E gli faccio tanti danni In base al livello Quindi due per quattro Otto Bene E gioco questa carta coperta Forza riflessa tempestosa E attacchiamo Questa qui Ok Buono E finisco il turno Bene No 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 Anche perché Di livello Uno Aspetta Ah Voleva farmi evocare Quell'altra Allora Ah E Quindi Aha Mo ti frego io Però Mo ti frego io Sì sì Attivo l'effetto Della carta coperta Vento perso Questa qui Se ne va Perde metà Perde metà Dell'attacco Uh Ok Torna in campo Velociroid No Che fregatura Va bene Drago sincrona Cristallo Bello Si attivo Si attivo l'effetto Di vento Perso Qua Attacca Si attivo l'effetto Della carta Eccola qua Forza riflessa Tempestosa Eh no Niente altra Catena Eh no Niente di che Posto Che bello Mamma mia che giocata Carte precise Al momento giusto Attivo l'effetto Di campanella Dell'inverno Eh no Questa qui Altri 800 danni Ok Dunque Avoco Velociroid Wajiki Ragazzo Il suo effetto Mi permette Di prendere Un mostro Tuner Dal cimitero Di un qualsiasi Giocatore Io Vabbè Prendo il mio Ok Mettiamo in attacco Qua Potrei anche Usarli Come materiali Da fusione Ah 2005 Si lo faccio Mi ha fregato Ah Però Però Se l'ha giocata bene Ok Dai Mi sto un attimino Ancora Riprendendo Dal duello Dal duello Dal duelli Di prima Oh santo cielo Si attivo l'effetto Toh Evocazione speciale Amico mio Toh torna via Va Attene Ehm No Ok Niente di che Ti è andata male Wow Chi è questo Soldato della valle Delle nebbie Che roba è Bello Ma direi di evocare Il soldato della valle Delle nebbie Attacchiamo Ok Ok Torna in mano Però Non è tornato in mano A dire il vero Vabbè Attacchiamo E attacchiamo Allora È fatta? È finita Wow È un allievo Dell'accademia Stai tranquillo Ragazzo Mi chiamo Aster Phoenix E sono un amico Di Yuya Tu ti chiami Yugo Giusto? Sei riuscito a rintracciare Una ragazza Che si chiama Com'era? Aspetta Lin Min Rin Si chiama Rin Si l'ho rintracciata È cambiata completamente Non è la persona Che conoscevo un tempo Questo perché c'è qualcuno Che controlla la sua mente E purtroppo Non è la sola succube C'è anche l'uno La sorella di Shay Per ora Basta Sono Completamente cotto Da oltre Due ore di registrazione Quasi due ore e mezza Non ne posso più Sinceramente parlando E prossimo video Altri due duelli Cercherò di farne tre Ci proverò Vediamo come va Anche se Dovrei farne due Per finire poi Con due e due Ma Vedrò più avanti Da farselo In ogni modo Io vi ringrazio Per aver seguito Quest'episodio In descrizione Link per Instagram E Telegram E se ancora Non siete iscritti Al canale Magari Fateci un pensierino Se non altro Per la persistenza Che ho avuto E noi ci vediamo Ovviamente Alla prossima Bye bye